Aldo Sono pronto a suizia Vai, di qualcosa Serata meravigliosa Il primo compleanno è veramente qualcosa di indimenticabile Il CDA si è riunito per due terzi Obiettivo per il prossimo anno Portare più tonte che uomini E farlo diventare il secondo sexy bar di corradore E il Fabrizio che domani raggiungerete L'obiettivo è cercare di aiutarlo a non fare più a fuori del verginello Da quant'è che è a Praga? Da qualche mese, sei mesi ha conquistato più uomini che donne Pensate, Fabrizio datti una mossa ragazzi E' quasi peggio che Colombita Catani Comunque questo è il primo video della serata Bene abbiamo inaugurato Il primo video del primo compleanno Esatto Forza inter-supporter Forza inter-supporter, ora è sempre